Buonasera, buonasera a tutti, buonasera al pubblico di Zona Locale e bentornati. Benvenuti anzi a questa prima puntata di Time Out del 2021. Prima puntata del 2021 e prima puntata dedicata alla città di Lanciano, in un lunghissimo tour che ci condurrà verso le elezioni amministrative. Questa prima puntata di Lanciano io non voglio dilungarmi e chiaramente non poteva che esserci in questa prima puntata dedicata appunto alla città frentana. Mario Pupillo, il sindaco della città di Lanciano. Buonasera sindaco, benvenuto. Buonasera a tutti quanti voi. Abbiamo un altro Mario questa sera qui in ospite. A noi è il collega Mario Giancristofaro, giornalista del Messaggero, come ci piace definirlo, il decano della stampa frentana. Ciao Mario, benvenuto. Ciao Martina e saluto a tutti. Allora, innanzitutto grazie per aver accettato il nostro invito. Mario, io prima di coinvolgerti in queste domande al sindaco e prima di partire con quello di cui appunto avevamo in mente di parlare, cioè una carrellata di questo mandato di Pupillo e ovviamente un occhio al futuro verso appunto le elezioni. Diciamo che la cronaca odierna ci fa fermare un attimo. Dobbiamo un attimo fermarci, insomma, a pensare a quello che sta accadendo perché infatti la provincia di Chieti e di Pescara da domenica tornerà ancora una volta in zona rossa. Sindaco, brevemente, qual è la situazione? La situazione è una situazione grave, impegnativa, perché in queste ultime settimane i contagi sono cresciuti in mente soprattutto all'area metropolitana e in alcune località, in alcuni comuni del Pescarese e della nostra provincia. Questa mattina ci siamo riuniti con il prefetto, in questi giorni abbiamo fatto diversi tavoli e oggi pomeriggio ci ha convocato il presidente Marsilio e insieme all'assessore Verì ha convocato i presidenti delle province, i sindaci dei capoluoghi e ha annunciato che la provincia di Pescara e la provincia di Chieti entreranno domenica nella zona rossa. Questo in virtù dell'aumento dell'indice RT, dei contagi e tutto quello che deriva e che genera. Quindi una brutta notizia che ovviamente non volevamo sentire, ma alcuni dati scientifici, il Comitato Tecnico Scientifico Regionale ha preso questa decisione, non possiamo fare altro che applicarla, ben sapendo le conseguenze che genera, soprattutto immagino le attività commerciali, tutto quello che gravita all'interno delle attività produttive. È una notizia sicuramente brutta, ma dobbiamo pensare che questa situazione possa poi portare a un miglioramento con l'impegno che stiamo approfondendo noi, i sindaci, la ASL, con anche la campagna di tamponamenti, dei tamponi che stiamo sviluppando a lanciare in altre città. E quindi tutto questo serve per ridurre quella contagiosità che la variante inglese è sempre avere invece accelerato. Mi fermo qui perché parlerei troppo, ci sono troppe cose da dire, ma ecco, è un'attivazione che ci preoccupa, ma non dobbiamo assolutamente abbatterci, dobbiamo solo armarci con tutte le nostre forze. Noi in questi due weekend come Comune, con il mondo del volontariato, siamo riusciti veramente a testare oltre 10.000 cittadini e a scoprire 50 asintomatici positivi che avrebbero sicuramente implementato, aumentato la contagiosità, soprattutto magari nelle famiglie e nelle persone più fragili. Insomma, l'ultimo anno del tuo mandato, che è stato caratterizzato purtroppo da questa pandemia, come è stato amministrare quest'ultimo anno in questa situazione quasi grave? Ma è stato molto difficile in termini organizzativi, economici, anche morali e affettivi, perché perdere 30 cittadini in un modo così drammatico, i decessi sono avvenuti in un completo isolamento dei pazienti, e quindi immagino la sofferenza dei familiari, non poter abbracciare il nostro caro che lascia la sua vita terrena per iniziare in un'altra, è veramente qualcosa di insostenibile. E poi le difficoltà che hanno colpito soprattutto non solo sanitarie, ma economiche e finanziarie, che hanno colpito le attività produttive e le fasce di popolazione più fragili. Abbiamo avuto dei fondi, li abbiamo messi subito a disposizione, grazie alla velocità e all'impegno delle nostre strutture, soprattutto quelle che riguardano i servizi sociali, la ragioneria, e che hanno permesso di distribuire i fondi in maniera rapidissima. Sono ovviamente palliativi che non rispondono il problema, ma possiamo dire che hanno contenuto la sofferenza, le necessità e i bisogni. Un sindaco, parlo a nome dei sindaci perché sono anche presidente della provincia, in questo periodo ha lavorato H24, ha dovuto soffrire insieme ai propri cittadini, trovare soluzioni certe volte anche difficili, e quindi per noi amministratori è stato un anno particolarmente difficile, ma fa parte della nostra attività e vedo da parte degli amministratori locali una grande passione, una grande generosità che spesse volte si paga anche con la vita il vice sindaco che è deceduto di Casalincontrato. Proviamo un attimo a cambiare discorso e torniamo insomma un po' indietro nel tempo. Ci troviamo per stare un po' nel gergo calcistico, in zona Cesarini, nel suo mandato. Se potesse concludere questi ultimi dieci anni, ma anche forse gli ultimi cinque, teniamoci stretti, con poche parole, tre parole, come definirebbe il suo mandato? Quali sono state le caratteristiche di questi dieci anni di amministrazione pupillo? Le caratteristiche fondamentali sono state quelle di mettere ordine a una situazione amministrativa che abbiamo trovato e che ha evidenziato delle lacune e delle carenze e anche dei ritardi della precedente amministrazione. Abbiamo dovuto affrontare questi problemi in ristrettezze economiche. Vado a memoria, ma nel 2011 i trasferimenti dello Stato si aggiravano intorno agli 8 milioni, 8 milioni e mezzo per il Comune di Lanciano. Quando siamo entrati noi, nel 2012 e nel 2013, questi trasferimenti si sono ridotti a 2 milioni. Quindi è importante che si è sviluppato in un momento storico in cui c'è stata una grande crisi mondiale economica che ha sottratto risorse, energie e che noi abbiamo impattato completamente. Come è iniziata la crisi, siamo entrati noi. Però non ci siamo disuniti, abbiamo fatto un grande lavoro. Penso che abbiamo dato a questa città quegli indirizzi che sono la città dei servizi, che faceva parte del nostro piano programmatico, la città del turismo e commercio, il centro direzionale. E quindi su questi argomenti si sono sviluppate le linee di mandato. Soprattutto come città dei servizi noi abbiamo recuperato alcune carenze che si erano sviluppate in questi anni. E soprattutto abbiamo difeso alcuni aspetti fondamentali. Parlo dell'istruzione. Siamo riusciti a chiudere il cerchio e lanciano un giovane che può completare il suo ciclo di studi attraverso delle proposte come quelle dell'ITS, ovvero del supertecnico, il post-diploma biennale che fa accedere poi all'università. Noi abbiamo così istituito a Lanciano un'università telematica. Quindi il percorso di studi in una città di 36.000 abitanti permette ai propri abitanti, ai coloro che vivono nei paesi limitrofi di Lanciano, di condurre a termine il ciclo di studi fino alla laurea. Questo è un segnale forte, importante, che prima non c'era e che ora c'è. Abbiamo riordinato alcuni aspetti che erano un po' nebulosi, che ci erano stati lasciati in eredità dalla precedente amministrazione riguardo, per esempio, le partecipate. Avevamo partecipate che avevano compensi enormi, poca efficienza, avevamo un servizio di raccolta urbana che era al 28% di differenziata. Oggi siamo un comune di ciclone, abbiamo costruito, questo devo dirlo, la città dei servizi, anche con il servizio di raccolta dei rifiuti, non solo per Lanciano, ma per tutto il comprensorio, perché ora l'Ecolan, da una piccola realtà con 15 dipendenti, è diventato un gigante, che è un esempio in tutta Italia. La fiera era in fallimento, si stavano portando i registri in tribunale, e noi siamo riusciti a metterla in linea e grazie all'avvocato Ferrante la fiera chiude in attivo e ha un progetto anche di ristrutturazione e di riqualificazione di un padiglione. Le farmacie comunali, che facevano solo vendita di farmaci, oggi sono una partecipata che gestisce il cimitero, le attività cimiteriali e i parcheggi e andrà a gestire anche il nuovo terminal bus, quando prima gestiva solo le farmacie e l'appannaggio del direttore, che era un ex sindaco, era di 90.000 euro l'anno. Non voglio entrare in questi argomenti, sarei noioso. Per questa risposta, mi rendo conto che condensare 10 anni in un minuto era chiederle troppo. Esatto. Come farebbe il mio bravissimo direttore Michele D'Annunzio per le prossime risposte? Brevi. Di guardare il counter, quindi di stare... Sì, due minuti, dimmi tu due minuti, io sono fermo. Mi fermo, ma sono difficile. Perché c'è anche Mario che freme per cominciare a fare delle domande che poi non ho... Sì, specifica. Mi salvo un attimo su quello che hai trovato tu partire. Volevo chiedere al sindaco, proprio mi rispondo in una frase breve. 10 anni il sindaco sono tanti, anche se sono tanti. Un ragazzo che quando lei ha cominciato a fare il sindaco aveva 10 anni muore a 20, insomma. Però è anche conto che per una pubblica amministrazione i tempi sono un po' diversi, quindi 10 anni, insomma, non sono poi tanti. Volevo chiedere, in questi 10 anni, secondo lei, qual è l'impronta che la sua amministrazione, che è stata la stessa anche con i suoi alleati per tutto questo tempo, ha lasciato alla città? Cioè, cosa ha un'impronta, una diversità, un'idea diversa? Ma questa città l'abbiamo presa perché era un po' ingessata su alcuni temi e per dire ingessata non voglio entrare più in uno specifico. Noi abbiamo dato una spinta a questa città, un rilancio, un rinascimento, io lo chiamavo, perché abbiamo tolto delle posizioni di rendita che si erano così un pochettino ingangrenite, abbiamo rigenerato la città in termini sia organizzativi, e questo è l'esempio della raccolta dei rifiuti urbani è un esempio, abbiamo risolto i problemi che erano insoluti, Sasi e Isi, che erano due società che erano sempre in conflitto, noi siamo riusciti finalmente, dopo 10 anni, a mandare in liquidazione l'Isi e quindi ad avere una sola società. Noi abbiamo rigenerato appunto la formazione con l'ITS e con l'università, abbiamo dato all'Inps una nuova collocazione, abbiamo chiuso alcuni punti oscuri che erano quello che non si sapeva che cosa fare del corso, quello che non si sapeva che cosa fare... Prego, Mario, mi hai interrotto? No, no. Ah, sì, ecco. Questo insieme a alcune gravi situazioni, il cimitero, noi abbiamo trovato un progetto del cimitero che era bloccato, perché mancava in quel progetto il calcolo del cemento armato, ovvero mancava tutto. Noi abbiamo concluso un'opera di cui nessuno parla, ma che è il blocco 2bis, e adesso andremo a concludere anche la chiesa che è sovrastante, per dire noi abbiamo sbloccato una città che non riusciva nemmeno a mettere ordine ai propri conti con situazioni assurde, situazioni gangrenite, come il mercato coperto, come chi non pagava i canoni locativi, come chi aveva le rendite di posizione e che erano perretribuite e che non erano poi produttive. Ecco, noi abbiamo aperto le finestre, abbiamo rinnovato l'aria e abbiamo rinnovato una città che si avvia verso quella che potrebbe essere una città più smart rispetto a come l'abbiamo trovata. Scusami Mario, diciamo sostanzialmente un cambio di rotta, e quindi per parlare di questo cambio di rotta io direi che possiamo cominciare a parlare un po' di futuro, o quantomeno provarci. Giusto per fare un po' un recap della situazione. ci troviamo a pochi mesi dalle elezioni amministrative, non sappiamo ancora con precisione quando si voterà appunto a causa della pandemia, però ci troviamo già in un clima, se non proprio di campagna elettorale, ma di precampagna elettorale. Parlando di centrosinistra, sono diversi i nomi che si sentono, insomma che circolano dei possibili candidati in sindaco. c'è Leo Maroni, il presidente del consiglio del PD, e dovrebbe essere il candidato della coalizione, però poi è uscita sulla fascia, come si dice, questa candidatura un po' a sorpresa di Dora Bendotti, assessore alle politiche sociali, da ormai dieci anni, che ha un po' scombinato i piani. e resta della propria opinione, fermo insomma sulla propria opinione Progetto Lanciano, che da un anno a questa parte dice di voler avere come proprio candidato sindaco Giacinto Verna, quindi già soltanto nel centrosinistra abbiamo questi tre nomi. Si faranno le primarie, che cosa succederà? Beh sì, questo come Mario e tu Martina sai che il periodo preelettorale è sempre molto movimentato, molto liquido, e quindi anche passando un po' quello che abbiamo vissuto nella precedente elezione, ricorderete benissimo come anche allora Progetto Lanciano non voleva partecipare alle primarie, quindi ci fu una lunga fase di trattative, di incontri che si stanno ripetendo adesso e che stanno portando avanti soprattutto i segretari delle forze politiche perché penso che la nostra carta vincente sia stata e sarà quella di rimanere coesi, uniti, per dare continuità a quel discorso che prima accennavo ma che ovviamente in pochi minuti non sono riuscito a concludere, perché la nostra forza è stare insieme e questa cosa la voglio sottolineare perché in dieci anni la nostra amministrazione è stata una delle più stabili. Se voi fate i conti di quanti assessori sono stati sostituiti o si sono dimessi per motivi vari e posso dire che sono orgoglioso di questo. Quindi la speranza, le mie energie sono profuse a questo. Prima a rimanere compatti come coalizione. È chiaro che poi ognuno ha le giuste aspirazioni, io lo capisco benissimo e quindi penso che questo percorso lo faremo, sono sicuro che arriveremo a una soluzione come abbiamo fatto cinque anni fa. Penso che le elezioni verranno spostate, le notizie che ho di ultima ora e probabilmente le comunali si faranno a settembre. Ho parlato anche con il sindaco di Teramo, Alberto, che è il presidente del Lanci regionale, che inoltrava proprio oggi o domani una richiesta a De Caro di spostare ovviamente le elezioni dopo l'estate. E oggi questa zona rossa che noi abbiamo nelle province testimonia come sarebbe difficile fare delle elezioni in questo periodo. L'ha detto anche Mattarelli quando ha detto che non si va a votare per questo. Quindi io penso che queste situazioni si creano sempre e con tutta fiducia che troveremo la soluzione. È chiaro che io sono un po' di parte, nel senso che per me le primarie sono uno strumento importante. Sono nato con le primarie, sono stato confermato con le primarie anche quando ero sindaco, avrei potuto, sindaco scende, avrei anche potuto dire no, ma penso che sia uno strumento importante. Si potranno fare, non si potranno fare, non lo so. Ecco, però tra le varie ipotesi mettiamoci anche questa, ma soprattutto con i tavoli di confronto noi stiamo cercando di confermare la maggioranza se non addirittura allargarla. Mario, per te una domanda. A proposito, la situazione al momento, ma come diceva lei, insomma adesso siamo ancora in evoluzione, ma la situazione è sempre un po' cristallizzata, è difficile muoversi in questo contesto, perché poi insomma se il progetto Arangiano insiste e mi sembra che siano molto determinati, poi c'è questa cosa tra Dora Bendotte e Maronzi, qualche altro candidato che potrebbe arrivare. Cioè, volevo chiedere una curiosità così, ma in questo contesto così, voi non è che potete pensare, a quello che intendo l'amministratore della tua conversità, pensare a un candidato esterno. Come in fondo è stato Mario Pupillo nel 2011? Ma guarda, io penso che i segretari politici stanno facendo di tutto per interpretare e trovare un accordo. In politica Mario tu mi insegni che può succedere di tutto. Io in questo momento non vedo tante persone che si sono fatte avanti, anche perché fare il sindaco in questo periodo, non avendo alle spalle una narrazione, è difficile. E poi è un momento, come dicevate prima, con il Covid, in cui i sindaci si assumono responsabilità enormi, notevoli. Però ecco, in politica è possibile tutto. Quindi anche con le primarie questo tipo di possibilità si esalta, perché se con le primarie sono primarie aperte, come io penso che siano necessarie, qualora non si dovesse trovare un accordo prima, che mi auguro, qualunque cittadino può candidarsi. Qualunque cittadino, e questa è la forza delle primarie, che non c'è bisogno che ci siano i partiti. Noi non siamo come il centrodestra che aspetta le nomine da Roma o che deve equilibrare tra le varie città i candidati. Siamo una forza politica in cui il Partito Democratico è la forza, diciamo, che rappresenta un partito più importante, come la sua noverosità, che però fa decidere ai cittadini, fa decidere ai lancianesi, alle forze politiche della città che hanno fatto la coalizione. L'esempio di Chiedi è catastrofico, per dire che cosa ha combinato il centrodestra. Poi nel centrodestra di Lancianese vedo tanti, tanti nomi che attendono chi? Che Salvini o Lameloni decidano. Mi sembra una mancanza di rispetto per la città e quindi le primarie ancora di più danno questa libertà, questa autodeterminazione che è fondamentale. Il sindaco, abbiamo visto, il presidente della regione che è stato scelto da Roma e quindi è catapultato in una realtà. Noi pensiamo che sia l'autodeterminazione dei cittadini, delle forze politiche a decidere. Sindaco, però questa volta sembra che il centro-sinistra sia un po' nella stessa condizione del centrodestra e verrebbe quasi da chiedere come mai in questi dieci anni, in cui come ci ha ribadito anche adesso, è sempre stata sottolineata la coesione, l'unità di questa amministrazione e come mai non si è riusciti a trovare un candidato unitario? E adesso, insomma, ci troviamo un po' in questa situazione. È una domanda a cui rispondovi. Noi siamo stati una compagine unita, ma non è che non abbiamo mai discusso avuto momenti di difficoltà o di crisi. Sarebbe, diciamo, un po' così, avere un'immagine della politica un po' fiabesca, ma la politica è fatta di discussione, anche aspre, molte volte, che non nego che noi abbiamo vissuto, perché la politica si fa anche così. E quindi oggi non stiamo scegliendo un programma di governo, ci dobbiamo scegliere un sindaco che sia capace di, così, di riunire tutti le forze politiche. e quindi è una fase propedeutica che succede a centro-destra e a centro-sinistra. Noi la affrontiamo diversamente. La affrontiamo diversamente chiudendoci in una stanza, ragionando, discutendo, in una stanza virtuale, che può essere la stanza, può essere anche la città, e andiamo a discutere, perché le giuste aspettative le abbiamo tutti. ognuno di noi si può sentire capace di essere responsabili di una città, di essere un sindaco. Quindi io non mi scandalizzerei nel sentire che questa classe dirigente che io ho avuto a fianco, di giovani in particolare, ovviamente con l'aiuto delle persone più esperte che hanno guidato i loro primi passi e oggi abbia anche la forza di dire mi sento promito. Questo per me è un bel risultato. È chiaro che è difficile dire quale è la scelta più giusta e in questo si sta lavorando. Però ecco, non mi scandalizzerei assolutamente che in dieci anni non abbiamo trovato un sindaco. Anche in cinque anni non avevamo trovato il sindaco. Io ero sindaco uscente, avevo tutti, diciamo, i diritti, tra virgolette, ma io sei mesi prima mi davano così per dente. Anche all'interno della mia coalizione c'erano, come si dice, dei dubbi. Ma questo è normale. Certo, Mario, senti, questa sera ci tocca interrompere il sindaco qua, se no... Scusate, io non vedo però il... Datemi il cronometro, ditemi voi, interrompetemi quando volete. Va bene. No, devo andare l'interrostatore. volevo chiedere una cosa. Una cosa che Lanciano non ha mai curato a fondo e che non ho mai riuscito a portare avanti, adesso lei ci ha provato, però non so se con buoni risultati, il collegamento col territorio. Nel senso, volevo dire questo, una certa solidarietà di questo territorio. Io ricordo una cosa, lo vedo tuttora, ma negli anni scorsi, lei ricorderà, quando Avezzano e Scormone si battevano per essere provincia, si battevano per l'ospedale, tutti i sindaci del territorio marsicano stavano a fianco di Avezzano. Adesso a Avezzano ci sono dei problemi, c'è il problema del tribunale, c'è tutto un buono di treno, così sì, però non c'è quella mobilitazione del territorio. Per la verità, neanche nella città, troppa. Così per l'ospedale, l'ospedale addirittura, qual è il problema per gli altri comuni? Di spostare all'ospedale, di portarlo più a valle, di portarlo in Val di Sancto, quello che volevo portare verso Costa Cesia, Sanctevere in Varo, invece di avere attorno alla città, che è il capologo anche naturale di questo territorio, c'è questa, non lo so, non direi avversione, ma una certa ostilità nei confronti di questa città. Forse perché nel tempo non sono creati i presupposti per creare invece un raccordo di amicizia, di partecipazione, se non proprio arrivare a una fusione che potrebbe essere proprio la cosa forse migliore. Sì, Mario, tu hai ragione, perché negli anni, se guardiamo un po' anche i decenni scorsi, questo ruolo di leader della città non c'è mai stato, un po', il lancianese non è ben visto dal territorio, non lo so se è un retaggio secolare, da quando c'erano le fiere e via dicendo. È chiaro, però, io questo tentativo di recupero lo sto facendo e devo dire che la città di Lanciano sta collaborando tantissimo con i sindaci del territorio. Noi abbiamo delle convenzioni in cui i nostri dipendenti sono impegnati nei comuni vicini, a Treglio, questo è il Frentano, Orsogna. Abbiamo quindi creato una rete con l'ECAD adesso, l'ECAD è la struttura che racchiude i comuni intorno a Lanciano in un unico ente che cura le attività sociali. Noi abbiamo riproposto questa rete e con l'ECOLAN si è creato una rete di comuni che addirittura adesso supera la zona frentana e finisce nel Vastese e anche nel Chietino. E questo sicuramente è un ruolo leader. Facciano ma non in termini di gerarchie o di autorità ma in termini di autorevolezza perché l'ECOLAN il cambiamento è partito da un gruppo di sindaci di centro-sinistra di cui facevo parte anche io che era la città presidente dell'Assemblea quindi queste cose non le dobbiamo dimenticare questo processo è lungo e poi è chiaro Mario che poi ogni sindaco ritorna ad essere il sindaco della propria città e su certi argomenti ci può anche essere anche essere non dico il conflitto ma la giusta la giusta risposta o richiesta che non sempre può essere condivisa quindi però su questo noi abbiamo fatto passi in avanti noi stiamo fornendo veramente le nostre competenze a tanti questo non lo sa nessuno non lo diciamo perché insomma non è una notizia che da dare alla stampa ma è una collaborazione con Frisa potrei fare l'elenco adesso mi scusi prima che comincia questo elenco perché altrimenti non riusciamo a fare altre domande Mario hai qualche altra domanda sul futuro di Lanciano per il sindaco sì sì c'è un'altra domanda il sindaco prima parlava anche delle opere che insomma sono state fatte però alcuni grandi temi tipo per esempio il tracciato della San Gritana sì io so che quelli per la regione tutto quanto però non è che il comune in questo periodo abbia proprio messo su un progetto di come utilizzare questa extra tracciata della San Gritana che è rimasto così se non erro sono ormai in dici anni o qualcosa di più così il turismo per esempio così il turismo e per cui allora il miracolo eucaristico perché là in realtà la città dell'Angela fa tante manifestazioni allora c'è il miracolo e poi c'è il mar preggiorato e poi ci sono i corsi così carestiti o dobbiamo dire c'erano i corsi musicalistini e e la fiera e tutte queste cose però non si riesce a fare un discorso unitario che possa arrangiare la città proprio nel settore turistico e poi c'è Chiesola faccio pure adesso poi c'è un'altra cosa che insomma che mi turma è il centro storico purtroppo questa città ha abbandonato il centro storico diceva un mio amico che le conosce bene che non c'è più Augusto Chiavaro l'avvocato Augusto Chiavaro che il centro storico è nato e vissuto questo non è più centro storico ma è la periferia storica della città e purtroppo l'abbiamo l'anno svuotata dal centro storico degli anni 60 70 e poi la città è più tornata adesso non c'è città in Italia che non abbia mobilità nel centro storico in qualche modo insomma però se si permette questa tragezza si porta via e poi non è che ci torna anche perché e poi sono stati fatti interventi precevoli nel centro storico ecco voi insomma avete qualche che va male quando sono riusciti a rivinalizzarlo questo centro storico se adesso non c'è più un negozio non c'è più un ristorante non c'è più allora Mario mi dicevi la prima domanda era del turismo in generale sì allora sul turismo il discorso è complesso in questo senso Lanciano c'ha più che turismo c'ha escursionisti cioè persone che vengono la mattina visitano la città e se ne vanno questo accade per il miracolo eucaristico e praticamente i 150.000 visitatori non non pernottano in questa città e questo è una è una carenza importante e poi ci sono le tante manifestazioni che che vengono fatte dal Mastro Giurato dell'estate musicale frentana dagli spettacoli teatrali dalle feste di settembre quindi è sempre un escursionismo d'altra parte però la domanda è questa e che per pernottare a Lanciano le strutture non ci sono e questo non è che lo può fare il comune cioè se noi abbiamo alberghi che hanno un target superiore a quello che è il turismo di massa è chiaro che la sosta non è facilitata e magari chi va a dormire ha diciamo desiderio di rimanere qui a Lanciano per notte magari o nei B&B che sono stati numerosi in questi anni come nuove aperture e la strategia qual è la strategia è che Lanciano rispetto a altre città è penalizzata dal fatto che in estate non ha il mare e l'antropizzazione e il turismo e soprattutto estivo Lanciano è una città d'arte ma non lo è a tal punto da essere un attrattore chi viene dice quanto è bella questa città ma è difficile far partire le persone e farle venire a Lanciano e proporgli un pacchetto quando poi abbiamo anche difficoltà logistiche in queste noi ci stavamo attrezzando ci stiamo attrezzando con il progetto che era quello del turismo convegnistico che avevamo presentato e che purtroppo non è partito perché l'anno scorso ma noi abbiamo messo in rete il Fenaroli il caso di conversazione il Diocleziano perché quello è uno spazio in cui convegni di media di media entità ci possono essere con grande diciamo vantaggio per tutti e abbiamo proposto altre attività che erano il weekend artistico astronomico e culturale però anche questo ci siamo ci siamo fermati perché con il covid è tutto fermo però abbiamo fatto in questo periodo è tutto un po' fermo insomma a prescindere dagli amministrazioni sui centri storici come chiedeva Mario devo dire che una volta tanto non sono d'accordo con Mario carissimo amico perché noi abbiamo investito tantissimo sul centro storico abbiamo fissato dei progetti abbiamo costruito dei progetti noi abbiamo aperto la cittadella della musica che io ho trovato chiuso e abbiamo sistemato lì dentro la scuola civica di musica quello era uno spazio che non era utilizzato noi l'abbiamo fatto il primo mese in cui io mi sono insediato noi abbiamo investito la musica questo è vero ma questo video progetto che comprendeva anche Giorgio la scuola dei Bunai tutto quell'area lì questo allora questo progetto Mario noi siamo sei conti con una graduatoria che prevede all'interno di quello spazio del De Giorgio dell'ex ECA e del Palazzo Lotti la costruzione di 34 appartamenti per social housing questo è uno dei progetti che ha avuto concretezza e che si è classificato secondo nel progetto regionale prima di noi a Giulianova noi stiamo facendo ricorso al Consiglio di Stato perché pensiamo di avere ragione quindi una parte di quella struttura è stata venduta alla diocesi il primo piano e abbiamo Mario investito quasi un milione di euro facendo il parcheggio di Sant'Egidio e adesso la torre che porterà ovviamente chi parcheggia in quello spazio nel quartiere di Civitanova e quindi chi non non crede nel centro storico non va a investire un milione di euro oppure 600 mila euro per le mura di San Biagio e la riqualificazione di Porta San Biagio che adesso è in corso sono quasi due milioni di euro oltre ai 500 mila euro che abbiamo fatto facendo tutto il pavimento a via dei Frentani noi abbiamo investito sul centro storico perché ci crediamo perché pensiamo che sia importante è chiaro che il passaggio inverso a quello che dicevi tu delle persone che hanno lasciato il centro storico negli anni 70 che c'era la zona Peppe c'era il quartiere Santa Rita adesso deve trovare un flusso inverso che cominciamo a vedere però perché si sta rilassando l'interesse anche sotto l'aspetto immobiliare di alcuni palazzi anche di pregio che sono attenzionati da persone anche che vengono dall'estero e che vogliono fare queste acquisizioni poi che non ci siano ristoranti nel centro storico Mario via dei Frentani con tutte le proteste che ho la zona di la zona è quella più dinamica e Corso Roma anche Corso Roma anche però la Sac Civitanova diciamo che sono dei quartieri un po' diversi sono più lontani dai flussi di traffico di percorsi però una volta che noi faremo il parcheggio finiremo la torre l'ascensore cambierà completamente l'accessibilità per quartieri di Civitanova e quindi sicuramente lì noi vedremo sorgere delle attività ristorative quindi il progetto è legno però ecco dire che questa amministrazione non ha fatto niente nel centro storico quando io con tre esempi ho detto che avevo speso già due milioni di euro ecco Mario su questo non sono d'accordo è chiaro che poi movimentarlo è tutt'altra cosa ma già abitare riportare i cittadini che vivono nel centro storico all'interno di questo spazio di prestigio per noi è un successo allora sindaco diciamo che non sono bastati dieci anni per insomma per portare a termine insomma tutti questi progetti su Lanciano centro storico turismo sviluppo come diceva come diceva prima Mario secondo lei quali saranno le prime cose che dovrà fare la prossima amministrazione chiunque sarà il sindaco allora la prossima amministrazione se un'amministrazione intelligente si trova già il percorso disegnato noi abbiamo detto Lanciano città dei servizi abbiamo fatto delle opere materiali immateriali abbiamo sistemato le nostre partecipate abbiamo progettato l'asse corso Trento e Trieste e lo spazio importante che l'ex ippodromo Central Park Pino Valente come noi pensiamo di poterlo chiamare e lì noi abbiamo fatto un'operazione rischiosa sotto l'aspetto così del gradimento dei cittadini abbiamo tolto un campo sportivo e abbiamo trasformato uno spazio ibrido che non aveva una sua destinazione in uno spazio che sarà uno dei punti di attrazione per il turismo a Lanciano perché in quello spazio che potrà ospitare 5.000 spettatori noi possiamo fare manifestazioni di grandissimo rilievo che saranno manifestazioni di spettacoli il mastro giurato delle attività diciamo ludiche ma soprattutto sarà il cuore della città che attraverso una viabilità diversa su cui noi abbiamo anche rischiato e quella dell'abilità lenta porterà le ciclovie via del mar a raggiungere la ciclovia all'interno dell'ippodromo e quindi costituire uno spazio di vivibilità e uno spazio funzionale flessibile per le grandi manifestazioni perché dovrebbero venire i cittadini che sono in vacanza a Lanciano la sera allora se noi creiamo grandi appuntamenti estivi su quello spazio che hanno una capacità di 4.999 persone perché oltre 5.000 avremo dei problemi probabilmente questo efflusso che l'estate svuota nella nostra città noi lo possiamo invertire con tante attività quelle culturali che sono state fatte come Giovecchia il gusto con le manifestazioni del cinema all'aperto dentro la città questa è la nostra il nostro disegno chi guiderà la prossima amministrazione ha disegnato il percorso noi abbiamo dei punti neri che abbiamo affrontato il torriere lo stiamo affrontando e quello era un punto oscuro della città l'ex cava della breccia e lo stiamo affrontando in giunta abbiamo approvato per lei la prossima amministrazione ha un po' il sentiero spianato ah il sentiero spianato permettetemi di continuare quello che avete con un po' di presunzione invece io quello che vorrei sapere è non tanto cosa farà la prossima amministrazione questo non abbiamo fatto noi no che cosa farà Mario Pupillo da settembre quello prima di tutto tornerà a fare teatro io e Mario Mario Pupillo si andrà verso Roma o andrà verso il teatro intanto vado verso il teatro e sicuramente tornerò a fare quello che mi è sempre piaciuto oltre che fare il nonno perché a casa mia Mario noi siamo ormai colleghi e quindi con uno spendito nipotino che ho qui gli altri due sono negli Stati Uniti quindi li vedo con scanto e farò del teatro perché mi è sempre piaciuto e penso che il teatro sia una palestra importante culturale di vita di sensibilità che veramente e in questo il nostro teatro Fenaroli è stato oggetto di grande attenzione ecco altri progetti per i giovani che cosa è cambiato che i giovani venivano al teatro gratuitamente parlavano con gli attori entravano nel merito delle delle pièce teatrali quindi una una scuola una formazione artistica importante altrettanto come quella musicale poi Mario Povello sta qua vediamo che succede sfrutteremo qualche situazione che si ma questo sempre se qualcuno mi vorrà i cittadini mi vorranno perché penso in questi anni di aver dato tanto impegno poi sarà il tempo a giudicare quello che sono riuscito a fare anche perché io penso che Lanciano soffra un po' il fatto che non abbia un suo rappresentante diciamo così a Roma e magari neanche alla regione e a proposito di questo insomma soprattutto con la regione non mi pare che insomma ci sia stata questa collaborazione molto molto attiva che Lanciano è stata un po' diciamo dimenticata sia dalla regione e anche un po' da Roma insomma l'ospedale ha perso la sua quella che era la sua potenza di un tempo certe attività lo stesso insomma adesso prima lei ha nominato i corsi musicali io quello che l'imbianco di più sono proprio i corsi musicali perché quando i corsi musicali facevano le grandi la grande orchestra le grandi manifestazioni dal mare venivano venivano io ho anche dei giornalisti che erano da Roma al mare a Torino di Sanco dalle Morice poi la sera venivano a sentirsi i concerti insomma questa cosa adesso invece anche da parte della regione forse perché la mancanza di un proprio rappresentante perché io mi ricordo in passato Mario oggi devo mettere il timer pure a te non solo al sindaco non solo il timer alle risposte il timer pure alle domande dobbiamo mettere questa sera una bella cosa diceva così sono i due mari che sono difettosi no 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 niente devo dire ecco c'è questa questa la terumbo dimenticata mi sembra a me forse sembra anche a me Mario hai perfettamente ragione perché se non sei nei posti in cui si decide nessuno ti pensa allora io sto facendo il presidente della provincia ovviamente mi hanno chiamato a fare presidente quando la provincia era in agonia probabilmente hanno detto questo è un medico può darsi che la può salvare la provincia di Matteo Renzi è stata una cosa mostruosa e io ne sto pagando le conseguenze perché insomma come ben sapete è una provincia ormai in dismissione che solo adesso si accorga che probabilmente ha ancora un ruolo ma essere in regione o essere a Parlamento fondamentale perché poi nell'ottica dei territori ognuno difende il proprio sì è vero il partito però poi come dicevi tu i sindaci sì facciamo rete a Lanciano poi però c'è qualcosa la voglio pure io quindi questo e però questo è un difetto un po' della nostra città che probabilmente di qualsiasi parte politica che non è mai riuscita a fare quadrato insomma anche a fare delle scelte coraggiosi che potevano essere quelle di appoggiare un candidato in maniera bipartisan è difficile però la nostra forse il nostro difetto è quello di essere poco campanilisti paradossalmente e quindi di non difendere e non proporre un rappresentante nei luoghi in cui si decide va bene fare il nonno va bene tornare al teatro però insomma c'è anche lo sguardo verso insomma qualcosa di più io le volevo fare un'ultima domanda prima di salutarci tornando un po' a parlare nelle amministrative di quello che ci aspetta del voto prima lei insomma parlava delle primarie della possibilità di trovare un accordo ad oggi però come diceva prima Mario sembra un po' di stare in una situazione di un pass insomma nessuno vuole fare un passo indietro nessuno vuole farlo in avanti e quindi siamo siamo un po' fermi e sembra un po' la situazione che viveva il centrodestra cinque anni fa nel 2016 lei non crede che qualora non si riesca a trovare la quadra di questa candidatura centrosinistra perché sentiamo che il PD prima apre verso le primarie poi chiude il progetto Lanciano non si sa non ha paura di consegnare le chiavi di Palazzo di Città a centrodestra con questa divisione interna ma certamente infatti ho premesso la nostra carta vincente e essere coesi e uniti riconfermare una squadra che ha funzionato nonostante i problemi perché ripetiamo non siamo in una in una fiction siamo degli amministratori che discutono che hanno anche difficoltà certe volte a confrontarsi perché gli argomenti sono complessi ma che ha trovato sempre la quadra io sono molto fiducioso è una fase di transizione che fa parte della narrazione di ogni elezione a qualsiasi latitudine e a qualsiasi diciamo spazio partitico ideologico per cui io sono sicuro che il buonsenso prevarrà e alla fine noi troveremo la quadra ultimissima domanda chi sarà il prossimo sindaco di Lanciano beh io direi che possiamo affidarci ai segretari eh di partito e che sapranno interpretare bene le capacità di ognuno e far ragionare coloro che devono confrontarsi e poi fare una scelta con un passo indietro un passo di lato un passo avanti partito un'altra domanda molto veloce assente rispondere proprio con un numero ecco da ora a dieci si come pensa che lasciando stare i nomi il centro possa mantenere il comune allora io sono sicuro da uno a dieci se noi andiamo andiamo insieme compatti con quel programma che io ho appena accennato insomma sarebbe stato difficile spiegare io sono sicuro che andiamo sicuramente oltre il 50% io sono sicuro che 60-70% della possibilità di vincere ce le abbiamo perché vedete i cittadini di Lanciano hanno scelto nella passata edizione delle comunali Mario Pupillo che aritmaticamente era sconfitto ma in politica 60 più 40 più 20 non ha fatto 60 ma ha fatto 43 e Mario Pupillo che aveva il 40 ha fatto 54 adesso non mi ricordo quindi quindi attenzione attenzione il vento di destra poi vediamo insomma tutte queste cose una lega che prima è anti-europeista adesso è europeista i cittadini non sono soprattutto quelli che non scrivono su Facebook sono poi quelli che fanno i voti sindaco per queste ultime domande è eccezionalmente rientrare in un minuto quindi ha recuperato tutto il tempo grazie 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 a voi grazie a voi di questo time out 2021 e per il primo time out di Lanciano quindi grazie ancora a Mario Pupillo sindaco di Lanciano e grazie a Mario Gian Cristoforo che questa sera è stato qui con noi a fare le domande al sindaco grazie al pubblico è stato un piacere per me Mario altrettanto per me grazie a voi grazie al pubblico di zona locale e ci vediamo al prossimo time out grazie ancora e buonasera grazie buonasera e viva Lanciano buonasera a tutti grazie a tutti